Ecco, vado. Cioè, un mio giudizio di rotonda, io sui premi non ho da dirci un granché, perché io sono pienamente convinto che ogni qualvolta le giurie vengano cambiate e, logica, i premi cambiano, perché ognuno di noi abbiamo dei giudizi diversi sul fattore pittorico. Poi, che cosa devo dire? Ecco, quello che mi ha colpito di più quest'anno è il discorso che in rotonda è stato, come si sol dire, minimo. Minimo di personaggi che siano venuti a rotonda. Difatti anche gli stand sono pochi rispetto all'anno passato. E questo mi ha fatto dispiacere, perché se non altro in rotonda è sempre un qualcosa che attira il pubblico. E questo mi dispiace, perché più pittori e più artisti vengano e molto probabilmente più gente viene qua. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS